L'arco tecnologico dell'Istituto Neuromed di Pozzilli sta mani un importante convegno sulle cure possibili per l'epilessia farmacoresistente, una malattia che coinvolge 500.000 persone solo in Italia all'epilessia, di cui oltre 150.000, affette da particolare forma resistente alle tipiche cure con farmaci. Un convegno sull'epilessia farmacoresistente e sulle difficoltà di gestione. Come sapete, al Neuromed c'è un centro di chirurgia dell'epilessia e in questa occasione abbiamo condiviso con tutti i colleghi epilettologi del centro sud, visto che noi siamo un centro che ha il suo bacino di utenza in questa regione, quindi abbiamo condiviso con i colleghi tutte le problematiche che vanno dal trattamento con le medicine all'eventuale trattamento chirurgico che noi eseguiamo proprio nel nostro centro. Esistono diverse modalità di azione in tal senso ed esperti provenienti da tutto il centro sud Italia hanno raccontato le loro esperienze in merito. Ogni anno l'industria farmaceutica mette fuori qualche farmaco, però il problema non è risolto, nel senso che continuano ad esserci persone che non rispondono. A questo punto si possono valutare varie tecniche alternative che sono la chirurgia dell'epilessia, che comunque è una tecnica curativa quando funziona, oppure metodiche cosiddette palliative tipo neurostimolazione, cioè ci sono delle tecniche che mandano degli stimoli elettrici sulle aree che producono l'epilessia per contrastare l'epilessia, poi ci sono tecniche alternative come alcune forme di diete.